Cioè c'è sempre una rincorsa della politica che sembra sempre in ritardo, è sempre tardiva. Secondo me quello di Greta è un linguaggio populista, visto che va molto di moda, immediato, molto forte, però drammaticamente sentito, proprio come una sorta di malattia. C'è molta disperazione nel messaggio dei tredicenni, quattordicenni. Poi la cosa impressionante è che questi non sono i ventenni del 68 o la contestazione degli anni 70. Questi sono ragazzini, sono i nostri figli, tredicenni, quattordicenni, i ragazzi delle medie. Ecco, questa cosa non è mai successa nella storia recente. Allora vi porto perché sono...